Sì, 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 sì. E' un po' un po' Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. 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 sono andato via a capire qui, lontano, a Roma, perché io non avevo mai mai visto prima. Tra l'altro c'erano i ragazzi, erano tutti belli e costanti, e poi da l'altro lato c'erano le ragazze, altre, magre, bellissime, bellissime, e poi, e poi, e poi c'erano io, l'insegnante, tra tutti, notò con me, l'insegnante, mi guardò e mi disse, e tu che ci fai qui? Adio, io volevo, no, io non vorrei, io non vorrei venire. Lenzo, bene, sembra un po' lo faccotto, ma nonostante tutto, in fondo, in fondo, mi piace, e poi ci sono le porte, questi abiti, non mi entro, ho comprato questo abito, l'ho comprato, l'ho portato a casa, l'ho provato, e il vestito non mi entrava, per i miei sardini. Tutti i giorni mi trovavo il mio vestito, e mi trovavo così il mio teso. Tutti i giorni, il mio vestito mi trovava il mio mare, era la mia vita, la mia vita, la mia vita, è profissima, io non mi scegli, che non sono beato. Come le tue mie, come mi scegli a vedere il mio mare, come diventare una funce, come essere bellissima, un giorno spento su Google, come movimentare. Mi riuscirò a finirsi, e tutto il resto è giro, Maruano, distruzione. Marche, giusto, e di un'unica di loro. Settacente, autore, avagia, dichiaria, Grazie. Grazie. Io mi tenevo a sottobraccio e se provavo ad essere seria per lui era solo un bagliaccio e mi diceva sempre non voglio che un po' più di niente Quando ambiziosa come nessuna mi specchiamo nella luna e l'unica fa dirti sempre sei bellissima Sei bellissima Sei bellissima Sei bellissima Sei bellissima Perchè l'altro non guarda con l'occhio? Ma poi il mio cuore Quando ho detto di sì è perché l'ho voluto, tuo figlio è il mio scopo non l'ho ingannato, ma il braccio dell'altro mi trascinò come un colpo di mare, mi avrebbe trascinata sempre, 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 che fai bellezza. Sì, quando ho detto di sì è perché l'ho voluto, tuo figlio è il mio scopo non l'ho ingannato, ma il braccio dell'altro mi trascinò come un colpo di mare, mi avrebbe trascinata sempre, 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 e sono facciate il giugno di sempre lei quando mi rossa, come il corpo giugno è che lui pensa, penso di stessi, penso di sempre, io sono l'unica che vuole farmi sentire amata, Lo so che quello che ho fatto ti ha ferito a me, per me era la cosa che il signore si potesse fare, tu non l'avessi mai creduto, quindi la mia vita è usata, punto, se vuoi, dimenticami. Quando ho detto di sì è perché l'ho voluto, prima di diventare un maiale, un maiale grassi, un maiale senza sare, un maiale grassi e un niente, tuo figlio è il mio scopo, non l'ho ingannato secondo, devi, oggi alti, ma il braccio dell'altro mi trascinò come un colpo di mare, mi avrebbe trascinata sempre, 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 Devo invitare, devo invitare, devo invitare, devo prendere il tuo padre, devo invitare il mio sogno, devo invitare il tuo padre, devo prendere il mio osso, basta! Una camera buona, una telecamera accesa, uno vecchio dietro la sua specialità, io sono un'attrice, una vera attrice, recito con soddisfazione di nervi sulla scena, mi sento meravigliosa, la telecamera. La camera è accesa, mi viene a terra, io sono un'attrice, una vera attrice, ma in sfidio a me voi, centive per centive, poche, poche ruote, mani, mani o buone, tante cose da soddisfare. Signorina, il ruolo è un ruolo, abbiamo scelto una ragazza di prossima, abbiamo scelto una ragazza di prossima, abbiamo scelto una ragazza di prossima. e poi abbiamo scelto una ragazza di prossima, abbiamo scelto una ragazza di prossima, abbiamo scelto una ragazza, siamo scelto una ragazza di prossima,illing warza di prossima, facciamo gesù ancora. Mas rabbia, questo è un ruolo. Non sapevo controllare altre voci, non sapevo sapere mettere le mie mani. Non potete capire cosa si trova quando si sale a recitare in maniera oltreenda? Ebbè, sì, io sono una tricce da nulla, dentro di me c'è il buio, il buio del mio nome. Io sono psicopatica, sono corrotta e per questo bisogna disprezzarmi. Voi disprezzate? Se per me si vanno preso, se già questo punto desidero cambiare, perché? Io sono sono corrotta, due! Sopere se vanno preso, semplicemente. Non! 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 Non!